Appuntamento settimanale con la nostra rubrica di alimentazione, saluto la dottoressa Barbara Lapini, dietista e nutrizionista, bentornata. Buongiorno, grazie ancora per avermi ospitato anche quest'oggi. Anche quest'oggi, come la settimana scorsa, parliamo di una cosa molto particolare, la settimana scorsa, le foglie edibili, oggi passiamo alle cortecce. Esatto, perché della natura possiamo utilizzare tutto, delle cose naturali, specialmente se sono in ambienti sani, sicuramente possiamo trovare valide alternative a quelli che sono gli elementi convenzionali. E come usiamo queste cortecce? Sono proprio le cortecce degli alberi che possiamo usare? Esatto, esatto. Una corteccia famosissima è per esempio la cannella, quindi li possiamo utilizzare in alcune situazioni come aromatizzatori, quindi come spezia vera e propria. E ovviamente hanno anche proprietà nutrizionali e terapeutiche importanti, calmanti, lenitivi, spesso e volentieri sono antiossidanti, rimineralizzanti, quindi proprietà nutrizionali abbinate al sapore. Poi in alcune altre cortecce, ad esempio, possiamo utilizzare dei principi attivi come nel caso del salice, dal quale viene estratto il salicilato, il principio della famosa aspirina, o piuttosto per esempio dall'ornicello, altra pianta, può essere estratta la manna che è un famoso lassativo. E quindi sono tutti alimenti questi che possono essere terapeutici, tra virgolette, ovviamente non ci curiamo con il fai da te perché sarebbe troppo riduttivo. Ma altri alberi insospettabili possono essere ancora fonte proprio di nutrienti e quindi ingredienti di alimenti importanti, come per esempio le farine. Si possono fare le farine, ad esempio, con l'interno della corteccia della bete rosso, piuttosto che del pino, del frassino, del tiglio. Poi ci sono tutta una serie di pianti come ad esempio anche il piopo e anche la betulla, una cosa molto importante, l'olmo. Si prende la parte interna, si fa essiccare e se ne ricava delle farine. Tra l'altro sono farine estremamente povere di nutrienti dal punto di vista, ad esempio, delle calorie, hanno circa dalle 120 alle 200 calorie ogni 100 grammi e fare un pane, tra virgolette, con questo tipo di farina potrebbe ridurre l'introito calorico, non apporta glutine e poi ha delle sostanze appunto come sali minerali importanti. Oppure ancora ci possiamo fare gli spaghetti, con la parte interna della corteccia, ovviamente è debile informarsi quali sono, quelle che non sono quantomeno nocive. Non cominciamo a andare nel bosco. A segare gli alghi. Ecco, magari prendere parti diciamo morbidi della striscioline di corteccia e utilizzarle come spaghetto, magari per un primo piatto alternativo. Ora queste sembrano cose provocatoriamente un po' fuori luogo per il momento, ma all'epoca potevano essere una valida risorsa anche per combattere la fame nei momenti di carestia. Ah beh, certo, assolutamente. Che cos'altro possiamo usare degli alberi oltre la corteccia? Beh, in realtà i germogli e le geme possono essere utilizzate fresche nell'insalata, ma possono anche ad esempio essere essiccate e tritate sopra come spezie alternativa. Per esempio anche i pini danno un sapore quasi limonato alle insalate, piuttosto che nello yogurt se si preferisce un sapore forte. Oppure metterle direttamente nei panificati, oppure perché no farci degli snack o dei cioccolatini per chi ama il dolce. Quindi di berle ad esempio in un cioccolato fuso e farci dei cioccolatini un po' particolari. Mentre invece le foglie possono essere in alcune situazioni utilizzate proprio come insalate o addirittura nel caso del pino possono essere essiccate e utilizzate anche nel fare il panificato piuttosto che i dolci. Certo, poi lì come diciamo spesso conta molto anche la fantasia nell'impiego degli ingredienti che abbiamo a disposizione o degli alimenti che possiamo usare. Quindi finora si conoscevano i frutti degli alberi, anche quelli un po' più consistenti, le noci, le nocciole. In realtà gli alberi ci forniscono tutta un'altra serie di apporto. Esatto, esatto. Quindi poi addirittura oltre all'apporto nutrizionale e a quello gustativo si possono anche utilizzare i ramoscelli più freschi, quelli proprio ai fini del senso di sazietà. Persone che tendono comunque a smangiucchiare possono masticare o tenere in bocca come si fa con ad esempio la liquirizia, il gambo di liquirizia, anche altri tipi di rami che possono appunto dare il senso di sazietà se masticati o tenuti comunque in bocca. Certo che possono fare meglio di un chewing gum ai nostri... O tante pasticche antifamme. Esatto, esattamente. E questo è un bel suggerimento che possiamo dare a chi ci segue, quello di usare i germogli, insomma è una cosa che si può... Sì, anche perché il germoglio è una cosa viva, no? E quindi quando si prende il germoglio della soia, il germoglio della rapa per metterle nell'inserata, che sono anche cose carine, ma si utilizzano anche i germogli degli alberi perché nel germoglio c'è proprio l'esplosione della vita, ci sono oltre che appunto le fibre anche vitamine importanti come vitamina A, vitamina C e poi ricordiamoci che nei tronchi ci passa la linfa e sono tutti i sali minerali che attraverso la fotosintesi clorofiliana la pianta poi trasforma in vero e proprio nutrimento. Quindi in questo percorso che va dalla radice alla foglia, la linfa che è estratta dal terreno è ricchissima di acqua ma soprattutto di sali minerali, che sono poi quelli che andranno a essere il vero nutrimento trasformato appunto nella foglia attraverso la fotosintesi clorofiliana. Grazie alla dottoressa Barbara Lapini di essere stata con noi oggi, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.